Qualche altro giorno per capire, altri dieci per fare la squadra. Il Teramo è ancora al palo e ha la necessità di capire i contorni, soprattutto societari, all'interno dei quali muoversi. I giocatori sotto contratto sono 15, 14 se si considera che Piacentini presto potrebbe partire, 13 con Cianci che a Teramo non rimarrà. Chi farà il mercato? Iachini ha confermato l'addio con Iaconi e quello che però potrebbe essere soltanto temporaneo con Sandro Federico. Il direttore sportivo non è ancora nelle mie valutazioni, la settimana prossima deciderò eventualmente se confermare il direttore sportivo o trovare altri direttori sportivi. Poi ci saranno le offerte per i componenti La Rosa su Piacentini e Forte e Pisa, mentre per quanto riguarda Diachite la sensazione è che si andrà ad un braccio di ferro. Il giocatore ha il contratto ma anche tante offerte e le richieste del diavolo sono evidentemente troppo alte nel post pandemia. Non accettiamo offerte a ribasso perché possono stare qui tranquillamente a giocare. Se mi faccio un riferimento uno per tutti, un Diachite non raggiunge il nostro obiettivo. Diachite ha un contratto fino al 30 giugno 2023, potrà continuare la sua crescita e preparazione professionale perché è un ragazzo che sicuramente ha dimostrato di avere grandissime capacità e qualità. Sicuramente un ragazzo che si deve formare e continuerà eventualmente la formazione presso la nostra squadra perché dovuto un difensore centrale di quella portata fa golo a tanti ma fa golo anche al Teramo. Costa Ferreira, il cui contratto è scaduto mercoledì scorso, invece sta cercando una squadra e il Potenza potrebbe essere una pretendente accreditata. La FIGC intanto ha pubblicato il protocollo con le indicazioni per la gestione della stagione sportiva 2021-2022. Le novità, anzitutto non si parla più di gruppo squadra ma di gruppo 1 del quale fanno parte tutti coloro che operano necessariamente a contatto fra di loro, calciatori, allenatori, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri e altri componenti dello staff e i medici sociali. Poi c'è il gruppo 2 del quale fanno parte gli arbitri e tutte le categorie ad essi collegate. Infine il gruppo 3, comprendente tutti coloro che partecipano alla gestione dell'evento, giornalisti, steward, dirigenti delle varie società non direttamente a contatto con la squadra. Da ultimo gli spettatori, che ovviamente il calcio aspetta sugli spalti nella prossima stagione. I nuovi test. Inizio stagione, due variabili, scrive la FIGC, potranno influenzare la gestione della prossima annata. L'andamento della campagna vaccinale e la comparsa di nuove varianti. A tal proposito non viene previsto l'obbligo vaccinale per i giocatori. A inizio stagione il gruppo 1 sarà diviso in tre categorie, i vaccinati, i guariti e i suscettibili da contagio, tra cui figura anche chi ha ricevuto solo la prima dose. La FIGC ha previsto che in caso di positività il soggetto dovrà essere allontanato dal gruppo. Sarà poi compito dell'autorità prevedere, a seconda della situazione, ulteriori provvedimenti nei confronti del gruppo. Poi ci sono i controlli a stagione in corso. Durante il precampionato, i test di routine molecolari e antigenici saranno svolti ogni 6-8 giorni. La novità rispetto alla scorsa stagione è che saranno obbligatori solo per i suscettibili, mentre facoltativi per vaccinati e guariti da non più di sei mesi. È prevista comunque la possibilità di aggiornare il protocollo in corso d'opera prima dell'inizio del torneo. Se alleggeriscono alcuni obblighi, per esempio, non sarà più vincolante l'utilizzo di stanze singole, soprattutto per vaccinati e guariti.